Carissimi fratelli e sorelle, buon ascolto del Vangelo di oggi secondo Giovanni 16, 16, 20 In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli, un poco e non mi vedrete più, un poco ancora e mi vedrete. Allora alcuni dei suoi discepoli dissero tra loro, che cos'è questo che ci dice un poco e non mi vedrete, un poco ancora e mi vedrete e io me ne vado al padre? Dicevano perciò, che cos'è questo un poco di cui parla? Non comprendiamo quello che vuoi dire. Gesù capì che volevano interrogarlo e disse loro, state indagando tra voi perché ho detto, un poco e non mi vedrete, un poco ancora e mi vedrete. In verità, in verità io vi dico, voi piangerete e gemerete, ma il mondo si rallegrerà. Voi sarete nella tristezza, ma la tristezza si cambierà in gioia. Commento di Don Luigi Marepicoco Ci sono brani del Vangelo che testimoniano la chiara difficoltà che i discepoli fanno per capire fino in fondo Gesù. Credo che volutamente questi indizi si trovino nel Vangelo per consolarci. Anche noi possiamo permetterci di non capire sempre, Signore. Di non capire che ci sta dicendo, dove ci sta conducendo, perché accadono delle cose o perché non ne accadono altre. Davanti a questo tipo di confusione, Gesù pronuncia queste parole. Andate indagando tra voi perché ho detto, ancora un po' che non mi vedrete e un po' ancora e mi vedrete. In verità, in verità vi dico, voi piangerete, vi rattristerete, ma il mondo si rallegrerà. Voi sarete afflitti, ma la vostra afflizione si cambierà in gioia. Ci sono cose che sul momento ci fanno piangere, ci convincono che sia tutto finito. Poi ci si accorge con il tempo che in quel dolore era nascosta una benedizione e una salvezza. E così, dalla tristezza, si passa alla gioia. È vero però anche il contrario. Ci sono gioie che sul momento ci fanno provare una sorta di delirio e di onnipotenza. Ci convinciamo di potere tutto e di avere potere su tutto, finché poi non ci si accorge che dietro quei fuochi d'artificio si nascondeva una notte molto più lunga e molto più intensa. Sembra che il Vangelo voglia suggerirci di diffidare della prima impressione e di sottoporre sempre tutto a un paziente discernimento.